da quello dove è appena rifatto si non è male no perchè mi hai detto che andava bene però non ho capito cosa andava bene se la partenza o la tua esecuzione allora un attimo che ci sei? aspetta ti ho messo un colpo in più di cassa ti aspetto all'inizio ti ho fatto partire un colpo di cassa prima ci sei? a mezzo che a mezzo che a mezzo che